di scarica riceci la provincia incontra i comitati di protesta per archiviare il progetto raffica di furti villa fastigi di nuovo presa di mira intervento da record all'ospedale di urbino asportato un tumore di 6 kg anche la chiesa pronta a dare il suo contributo alla capitale della cultura pesaro 2024 lancia il concorso per la vetrina più bella ben ritrovati su rossi di tv e benvenuti al nostro telegiornale di oggi oggi è mercoledì 24 gennaio e apriamo questa edizione occupandoci della discarica di riceci perché questa mattina nel cortile del palazzo della provincia c'è stata una manifestazione di protesta da parte dei comitati del no alla discarica che invocano la definitiva archiviazione del progetto al sit in è seguito un lungo confronto fra paolini e gli stessi esponenti dei comitati vediamo allora quanto è emerso in questo primo servizio il caso riceci e soprattutto la mancata archiviazione del progetto della discarica sono tornati a bussare alle porte della provincia questa mattina strisciò ogni slogan e manifestazioni di protesta nel cortile dell'ente caldeggiata dalle organizzazioni diversamente everyone la lupus in fabula urbino contro la discarica di riceci e marea verde speranza manifestazione sostenuta anche dall'appoggio di forze politiche come verdi più europa lista civica vieni oltre e lo stesso pd il presidente della provincia paolini ha ricevuto i comitati in un'ora e mezzo di confronto indirizzato a condividere le strategie che portino ad un notto un vale inattaccabile verso il progetto di discarica nel comune di petriano senza ulteriori cavilli procedurali è stato un incontro utile e sicuramente abbiamo percepito da parte del presidente una volontà a chiudere positivamente il problema della discarica però sicuramente secondo noi manca innanzitutto questa questa sproroga che è stata concessa a lungo ancora i tempi e sicuramente pensiamo che nella prossima conferenza istruttoria non non ha la provincia materiale sufficiente per poter presentare nuove motivazioni per cui la discarica non va aperta di conseguenza siamo ancora molto preoccupati cioè sinceramente dobbiamo dire siamo contenti di essere stati ricevuti cioè si è aperto un dialogo fra società civile e istituzioni ed è molto buono non c'è ostilità però siamo estremamente preoccupati perché sembra che questo progetto non 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 si interrompa questo progetto quindi rimane vivo e la società che lo ha e lo vuole concludere investirà ancora per fare dei sondaggi e quindi se investe ancora investe ancora in avvocati e investe ancora in dossier in documentazione quindi questa società è convinta di poterlo fare noi pensavamo che non avendo rispettato i 180 giorni della prima sospensiva venisse archiviato abbiamo presentato un istanza di archiviazione con diffida la linea scelta dalla provincia è diversa all'interno del procedimento hanno concesso un ulteriore proroga anche se tecnicamente non è una proroga andrà a finire quindi al 16 luglio del 2024 rimane vivo il rischio di una discarica a riceci ma soprattutto cosa che noi diciamo da molto tempo non volevamo che questo avvenisse per una ragione semplice non volevamo bypassare il periodo elettorale della campagna elettorale perché un momento nel quale i politici devono rispondere direttamente ai cittadini a noi continuiamo a dire che secondo noi andava archiviato la provincia ritiene che non fosse legittima questa azione e quindi ritengono di poter agire all'interno del procedimento e speriamo che ottengano il risultato di bloccarlo in maniera diversa io voglio che ci sia un no tombale su questa questione perché non posso andare durante le elezioni non chiudendo definitivamente questa cosa io voglio che ci arrivi alla chiusura definitiva che non sia riproponibile né a riceci né in altri paesi dell'entroterra noi siamo veramente in una difficoltà enorme nel costringere paesi dell'entroterra di smaltire i rifiuti che arrivano dalle grandi città cioè ci siamo veramente stanchi su questo allora se questo non è sufficiente e non basta io l'ho detto io sono disposto a scendere anch'io alle manifestazioni queste robe qua però il discorso è che noi abbiamo uno studio legale qui dei dirigenti che stanno studiando proprio tecnicamente come si possa mettere veramente una un no definitivo e tombale su questa questione se poi dopo qualcuno lo vuole sfruttare per le politiche per le elezioni politiche queste robe qua fanno tutti quello che fanno c'hanno come voglio che a me non me ne frega niente perché a me delle elezioni politiche chi vinco chi perde mi interessa relativamente a me mi interessa la gente che anche dopo le elezioni politiche rimane lì a riceci che viva riceci sono queste che mi interessano da adesso in poi noi gli incontri che faremo saranno aperti anche loro in magari con collegamenti online o in presenza saranno aperti anche loro cioè la massima trasparenza è quello che io voglio nelle ultime due settimane si sono verificati diversi furti a villa fastigi di pesaro quartiere che già un anno fa fu preso di mira da un simile fenomeno criminale che continua a non sentirsi protetto una nuova raffica di furti ha preso di mira il quartiere pesarese di villa fastigi a distanza di un anno un problema che torna diversi colpi sia in abitazioni che in attività commerciali tra questo mese di gennaio il precedente di dicembre sì la mia il mio intervento è proprio per risollecitare quello che poi non è stato fatto perché dopo i furti l'anno scorso siamo proprio a distanza quasi di un anno una serie di furti ha colpito le vie finali la settimana scorsa via borsi e dove ci troviamo e ieri sera fresca fresca della notizia in via parlotti quindi il quartiere si sente nuovamente insicuro ieri sera una serie di messaggi di telefonate di incontri video video in video con alcune persone che mi sollecitano di riprendere quello che poi l'anno scorso è stato fatto quindi quello che il comune deve fare quindi un incontro pubblico qui nel quartiere ma soprattutto sollecito magari anche il questore di parlare con un incontro con noi del consiglio di quartiere io parlo diciamo da da consigliere di di ascoltiamo pesero e anche soprattutto in veste di di direttivo di fratelli d'italia di pesero è una delle questioni che diciamo come partito a cui teniamo molto sappiamo che ci sono gravi diciamo mancanze di personale quindi non possiamo pretendere il diciamo il la polizia qui che che patuglia le nostre vie quotidianamente però quello che era stato proposto che era stato detto delle telecamere di alcuni di alcuni accorgimenti e di altre cose quello sì e sollecito il comune a farlo sollecito nuovamente dopo quello che è stato detto l'anno scorso ma non è stato fatto ed ora cambiamo argomento è morto per un'insufficienza respiratoria riccardo sciauo trentenne personal trainer fanese trovato senza vita domenica nella sua casa di via della bazzia questo quanto emerso dall'autopsia effettuata ieri ora continueranno gli approfondimenti medici per capire che cosa ha causato l'insufficienza respiratoria del giovane che gestiva una palestra in via fanella da fano ci spostiamo a urbino perché all'ospedale è stato asportato un tumore dal peso di 6 kg ad una donna di 59 anni si tratta di un intervento ad elevata complessità eseguito in tre ore dall'equip del reparto di ginecologia che ha asportato una massiccia cistiovarica da una donna di appena 50 kg intervento che attesta la professionalità dell'ospedale urbinate che si conferma riferimento per prevenzione e cura femminile concluso l'intervento la donna ha mostrato tutti i parametri nella norma e già domani verrà dimessa oggi 24 gennaio ricorre la festa di san francesco di sales patrono dei giornalisti ricorrenza che per il secondo anno consecutivo ha visto il vescovo sandro salvucci organizzare un momento di confronto con la stampa locale anticipando anche quello che sarà il contributo attivo della diocesi per pesaro capitale della cultura oggi 24 gennaio ricorre la festa di san francesco di sales proclamato nel 1923 da papa più decimo patrono dei giornalisti ricorrenza che per il secondo anno l'arcivesco monsignor sandro salvucci ha fatto coincidere con un momento di confronto costruttivo con stampa e media locali all'interno di un 2024 in cui la diocesi è pronta a dare il suo contributo a pesaro capitale della cultura sicuramente durante quest'anno metteremo in atto dei progetti che porteranno a una maggiore valorizzazione per i visitatori dei mosaici del Duomo presto saranno svelati i progetti anche con la tempistica con cui tutto questo verrà realizzato e insieme a questo abbiamo anche annunciato che il 31 dicembre del 2024 ultimo giorno dell'anno di questo anno particolare sarà un giorno in cui pesaro ospiterà stiamo attendendo la conferma ufficiale ospiterà la marcia della pace a livello nazionale un'esperienza che va avanti da molti anni viene supportata promossa dalla conferenza episcopale italiana ed alcune tra le maggiori associazioni cattoliche italiane Pax Christi, Azione Cattolica Italiana Movimento dei Focolari, Caritas Italiana e quest'anno è un anno anche particolare perché è l'ottantesimo anniversario del sfondamento della linea gotica e tanti fatti dolorosi di sangue hanno toccato il nostro territorio il tema della pace dunque è di grande attualità e la cultura vivere un anno dedicato alla cultura la cultura di una città, di un territorio colminerà appunto con un evento come appunto la Marcia della Pace che si svolgerà nel pomeriggio del 31 dicembre 2024 attraverso proprio una vera e propria marcia che toccherà dei punti significativi della città e mi sembra che possa essere un degno coronamento di quest'anno I valori di coraggio e tenacia di Giorgia Righi sono stati premiati ieri sera dal conferimento della tessera d'onore dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia della sezione di Pesaro e Terni per l'associazione La 23enne Pesarese affetta dalla tassia di Frederick è diventato un positivo modello di coraggio e resilienza rivolto ai giovani pubblicamente divulgato dal libro scritto dalla stessa Giorgia Vivendo Volando e dal film ispirato alla sua vita Ancora Vorano le Farfalle film che sarà nuovamente proiettato al Cinema Solaris di Pesaro dal 29 gennaio al 4 febbraio Ed ora andiamo a Vallefoglia come sapete questa è la settimana dedicata proprio a questa città dopo il bagno di folla con Mattarella il nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega ha subito registrato il pienone di pubblico fin dal primo spettacolo del progetto 50x50 capitali al quadrato Dopo il bagno di folla inaugurale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nuovissimo teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia si è presentato stracolmo al suo primo spettacolo ovvero La leggenda delle due montagne di Mario Totaro che ha aperto la settimana di Vallefoglia a prepista del progetto 50x50 capitali al quadrato uno spettacolo che ha coinvolto la scuola di Pian del Bruscolo la filarmonica Rossini e la voce recitante di Lucia Ferrati Vallefoglia ha proprio da pochissimo direi questo teatro che viene inaugurato proprio da questo lavoro perché questo è il primo bisogna dirlo lavoro quindi anche storicamente sarà ricordato perché è il primo lavoro che viene che viene qui diciamo rappresentato l'opera è strutturata così c'è praticamente una voce recitante accompagnata a volte da sola e a volte accompagnata da strumenti che possono essere sia di orchestra di professionisti sia di orchestra anche di ragazzi in questo caso appunto della scuola media e l'argomento è un'antica favola peruviana che è stata poi riadattata bisogna dirlo da Lucia Ferrati che è stata bravissima anche come oltre che come attrice perché è lei che reciterà poi la parte ma è stata bravissima anche a estrapolare da questa leggenda che faceva parte di un libro di Sofia Gallo e lei ha estrapolato questa cioè è riuscita a fare un adattamento diciamo appunto per voce e strumenti quindi un'opera però un'opera non cantata ma recitata oltre agli strumentisti c'è anche un coro di ragazzi sempre della scuola media che canteranno con i professionisti quindi abbiamo l'unione in questo caso di ragazzi della scuola e professionisti invece musicali noi abbiamo avuto la fortuna e ringrazio anche di aprire questa settimana anche con un nuovo teatro non semplice come vedete da governare perché tutti vogliono entrare anche se sono al 18 di un pomeriggio perché c'era molta aspettativa in più la presenza del presidente Mattarella ha fatto conoscere ancora di più un teatro che è un teatro della vallata un teatro molto importante un teatro che non è solo un teatro perché qui c'erano almeno 5-6 cinema non c'è più un cinema quindi sarà un auditorio per la musica i gruppi musicali, i cori, le bande e sarà anche un luogo in cui si proletteranno dei film quindi diciamo che è un orgoglio un po' credo per tutta la vallata non solo per la città di Vallefoglia la programmazione che ha avuto l'amministrazione è quella di insomma prima di ammodernare un teatro a Sant'Angelo e Lizzo il teatro Branca 150 posti che è già partito con la sua attività e poi questo nuovo teatro qui a bottega di Vallefoglia con 336 posti direi che ci permette di avere due teatri che vanno messi in rete messi in rete con la programmazione che magari provinciale, regionale e sostanzialmente le attività culturali di Vallefoglia erano magari più concentrate nella stagione estiva e quindi qui avremo la possibilità di fare una programmazione annuale usufruendo di queste due strutture che hanno una dimensione comunale non solo quindi anche sovracomunale e anche provinciale E ad essere coinvolte nella capitale della cultura saranno anche le attività commerciali dei quartieri di Pesaro parte infatti un concorso che premierà chi allestirà la vetrina più bella Semplicemente dal 15 di febbraio fino al 30 di marzo si potrà allestire la propria vetrina chi lo vorrà a tema capitale 24 e poi una giuria valuterà le foto arrivate le segnalazioni arrivate di chi sarà iscritto e ci saranno dei premi legati ai temi della città un cesto premio tra cui anche ad esempio i biglietti del Festival Festival ma al di là del premio è chiaro che è un modo per fare percepire la partecipazione della città a partire dall'attività economica nell'originalità che anche i quartieri possono rappresentare quindi dalla ferramenta alla parrucchiera all'officina allo studio da architetti all'alimentari possono essere chiaramente protagonisti di un racconto diverso anche per tipologia ma che dà l'idea al cittadino al cittadino del quartiere al passante e anche ai visitatori perché non dimentichiamo che ad esempio la capitale della cultura si porta dietro tantissime attività culturali nei quartieri che faranno circuitare pubblico anche addirittura un artista in residenza in ogni quartiere per produrre un'opera che anche questo genererà curiosità ai pubblici quindi è anche un modo per accogliere turisti e visitatori da parte dei singoli quartieri attraverso il contributo caldo diciamo di un'accoglienza di una vetrina di una vetrina tema in questa iniziativa ci fa veramente piacere a noi Presidenti del quartiere perché è una maniera per estendere la capitale della cultura in realtà e farla entrare all'interno all'interno dei quartieri sono convinto che tanti esercenti dei nostri quartieri saranno molto molto felici di aderire in quanto sarà una vetrina appunto per gli esercenti ma allo stesso tempo una vetrina per tutta la città il concorso si manifesta con dei premi carini simpatici e ritengo che chi ha voglia di mettersi in gioco sicuramente farà una bellissima una bellissima cosa per la città nel sito del comune di Pesaro già trovano per poter partecipare con la vetrina più bella di Pesaro capitale della cultura ci sarà una una mail dove devono scrivere e dopo che hanno allestito la propria vetrina potranno mandare una fotografia ci sarà una commissione che poi girerà le vetrine che hanno dato l'adesione e dentro il 20 di aprile faremo la premiazione ed ora parliamo di enogastronomia ed esattamente di Baccalafest un tradizionale evento di valorizzazione gastronomica del territorio che quest'anno si amplia oltre il confine della provincia di Pesaro e Urbino dal primo febbraio al 30 marzo torna Baccalafest Festival del Baccalà Stoccafisso nelle terre di Pesaro Urbino ad organizzarla come di consueto è l'associazione di cultura enogastronomica viandanti dei sapori che da quest'anno è affiancata dal sostegno di Commercio Marche Nord l'evento con il tradizionale Giro Baccalà vedrà la partecipazione di numerosi ristoranti ad un gustoso tour gastronomico nelle terre di Pesaro Urbino con sconfinamenti anche fuori provincia è un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente perché è un prodotto consumatissimo nel nostro territorio dal mare al monte e non per questo abbiamo il sottotitolo è Giro Baccalà che coinvolge tantissimi ristoranti quest'anno una quindicina del territorio della provincia di Pesaro Urbino con la giunta di altri ristoranti da fuori provincia che hanno voluto partecipare conoscendo la manifestazione hanno richiesto di essere presenti il baccarà e lo stoccafisso sono due prodotti o un prodotto di grande importanza nell'offerta enogastronomica della nostra regione direi per cui come confcommercio da quest'anno abbiamo deciso di prenderci carico della coorganizzazione di questi eventi sia le due sfide che ci saranno il 24 e il 31 di marzo alla lanterna della famiglia Cerioni sia gli eventi che si svolgeranno dal primo febbraio al 30 marzo in 20 ristoranti non solo del territorio provinciale infatti già da quest'anno abbiamo alcuni ristoranti delle altre province marchigiane con l'obiettivo nel 2025 di trasformare l'evento in una grande iniziativa regionale già quest'anno però insomma con 20 ristoranti che partecipano a questa iniziativa è un buon segnale c'è una partecipazione diffusa sul territorio a dimostrazione del fatto che appunto il baccalà lo stoccafisso non sono un piatto solo fanese o solo dalla costa ma arriviamo fino a Pecchio ad esempio dove appunto viene proposta questo piatto e dunque fino al 30 marzo si potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti al prezzo convenzionato oltre a partecipare alle appassionate di sfide gastronomiche le salate di sfide sono il 24 riservata agli amatori che sono le di sfide gastronomiche riservate agli amatori cuochi amatoriali diciamo chiamiamoli cuochi amatoriali ma fanno dei piatti veramente straordinari con la passione che mettono nel cucinarli quindi parliamo di prodotti di cucina tradizionale ma non solo anche innovativa e di fantasia per cui il 24 il 31 abbiamo la gara dei professionisti dei cuochi professionisti io li chiamo cuochi non li chiamo chef mi avranno pazienza ma io li chiamo cuochi sarà anche lì una bellissima gara tra loro sono ristoranti molto conosciuti nel territorio non solo della provincia perché è una gara nazionale che coinvolge anche diciamo ristoranti delle Marche del Friuli Venezia Giulia e della Puglia siamo molto contenti di questa di questa iniziativa che sta prendendo piede su un piatto della tradizione veramente del territorio che va dal mare al monte come dicevo prima e viene consumato in tutte le famiglie in tutto il periodo dell'anno chiudiamo questa edizione di oggi parlando di sport e in modo particolare di Italservice Calcio a 5 le immagini che vi mostriamo si riferiscono alla vittoria dell'Italservice Pesaro che ieri ha vinto 6 a 4 ad Avellino contro Lassandro Abate conquistando la seconda fase di Coppa Italia altra prova convincente dei pesaresi che gioiscono grazie alle doppiette di Miguelin e Schochette oltre alle reti di De Oliveira e Tony Dandell ora Italservice se la vedrà nei quarti di finale il 20 febbraio contro l'Olympus Roma Italservice che oggi ha salutato anche Mauro Canal che dopo tanti anni in maglia bianco-rossa si è trasferito al Napoli e questa sera su Rossini TV si continua a parlare di sport e lo facciamo con una nuova puntata degli occhi della Tigre infatti alle 21 e 20 questa sera conoscerete la pallavolista della Megabox Vallefoglia che si chiama Claudia Provaroni che è libero appunto della squadra di Vallefoglia e subito dopo alle 21 e 30 una nuova puntata dedicata al cyberbullismo affrontare le minacce della rete questa è la quarta puntata un approfondimento davvero molto interessante che vi invitiamo a guardare e poi domani vi aspetto alle 7 e 20 con la nostra rassegna stampa insieme a voi infatti leggeremo i titoli dei quotidiani locali e domani è giovedì ancora sport in prima serata su Rossini TV questa volta con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con la nostra Elisabetta Ferri che in diretta vi presenterà Luca Pentucci assistente allenatore della VL e Roberto Terensi che è un ex giocatore di questa squadra vi ricordiamo di commentare in diretta il nostro numero di cellulare che ormai sapete oppure anche nella diretta che potrete vedere nella pagina Facebook perché potrete vincere i biglietti per la prossima partita di domenica alle 18 alla Vitre Frigo Arena adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni buona serata